Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Megateaker e come vedete sono di nuovo qua nella mia cucina e quando sono in cucina ormai lo sapete, vi parlo di elettrodomestici per chi mi seguisse anche su TikTok saprà che al ritorno dalle ferie ho avuto una brutta sorpresa a cui ho fatto fronte grazie al mio fidato, guardate qui, frigo Xbox ebbene sì perché adesso oggi siamo qua a parlare del mio nuovo frigo della LG ormai in questa casa non c'è più nulla che non sia LG, ho una lavatrice, un'asciugatrice, quattro televisioni, una lavastoviglie mancava ormai solo il frigo ebbene sì però l'ho già spoilerato nel titolo, questa volta dopo il mio acquistone non sono rimasto pienamente soddisfatto il frigo di fatto funziona bene, è un bel frigo, esteticamente mi piace tantissimo ma ci sono un po' di cose che vorrei farvi vedere che non mi hanno convinto per nulla di fatto sono alcuni peccati veniali se vi interessa scoprire di cosa si tratta venite con me e andiamo a scoprire il nuovo frigo LG ebbene intanto andiamo un attimo a descrivere di cosa si tratta, che prodotto ho scelto di fatto come vedete sono stato obbligato a scegliere un 70 cm di larghezza il modello l'avete visto nel titolo, non lo sto ripetendo perché sono una cozzaglia di lettere e numeri che sinceramente non ricordo neanche come vedete lui è bassino, non è tanto alto, io sono 1,71 il frigo in totale è dichiarato per 1,78 di altezza la profondità poi del frigo è dichiarata sui 78 cm capacità totale di carico 438 litri e classe energetica di consumo abbiamo una classe E la classe energetica non è delle migliori e di questi tempi forse effettivamente si potrebbe protendere per qualcosa di meglio ebbene prima vi parlavo di alcune caratteristiche che non mi hanno convinto di questo frigo andiamo un attimo insieme a vedere prima quelle esterne ebbene prima vi parlavo dell'altezza non propriamente da gigante casa mia è a 2,40 m, sono in un semi interrato se mi allontano dal frigo non so se lo vedete ma va sicuro che anche uno nanetto come me scorgerà questo bruttissimo pannello grezzo che sicuramente avrà le sue funzioni tecniche ma sinceramente non mi aspetterei di vedere così su un frigo con una linea tutto sommato molto molto pulita ed elegante un'altra cosa ragazzi che non mi convince appieno è la qualità dei materiali soprattutto di queste maniglione esterne guardate come flettono sì che sono molto lunghe però sinceramente mi fa un po' paura soprattutto se pensiamo che un frigo del genere si spera riduri almeno 10-15 anni un'altra cosa che non mi convince tanto è la scelta di piedini molto duri molto rigidi che complice il fatto che là dietro voi non lo vedete ci sono due rotelle e il frigo di fatto di per sé non è pesantissimo fa rischiare ad ogni apertura e chiusura un po' più irruenta di trascinare avanti e indietro il frigo con voi ovviamente più lo caricherete più questo non succederà ma va sicuro che a frigo abbastanza vuoto come vedrete adesso in questo momento questo potrebbe essere effettivamente un piccolo inconveniente insomma avrei preferito l'utilizzo di un materiale un po' più gommoso nulla che non si possa risolvere in realtà basta mettere un feltrino comunque qualcosa di gommoso al di sotto del piedino ma sono quelle piccole attenzioni che da una casa come lg mi sarei aspettato andiamo poi un attimo ragazzi ad analizzare quello che è il display come vedete sulla porta del freezer se io apro il freezer o se apro il mio frigorifero ecco qua che alcune blande informazioni vengono fuori per poi sparire dopo un po' di tempo ebbene qui un'altra piccola critica sinceramente a me che sono Tamaro sarebbe piaciuto lasciare queste informazioni sempre ben visibili sulla portella e invece non c'è una funzione che mi impedisca la sparizione di queste informazioni dal display un'altra cosa che mi fa veramente storcere il naso anzi proprio incavolare è il fatto che come vedete qua c'è il 3 gradi del frigo ma non c'è un'informazione che riporta la temperatura del freezer così come in realtà non c'è neanche una regolazione da qui che possa fare per cambiare la temperatura nel freezer questo lucchetto si sblocca con un ditone per un muto qui è una funzione utile così i bambini non possono cambiare inavvertitamente i comandi ho sbloccato il lucchetto vado su fridge e posso effettivamente cambiare la temperatura all'interno del mio frigo mannaggia la misera però ragazzi qua non c'è la funzione per cambiare la temperatura del freezer devo aprire il mio freezerone e guardate qui cosa veramente assurda manuale e meccanica una rotellona per cambiare la temperatura veramente una cosa imperdonabile non capisco perché non abbiano centralizzato tutto qua davanti tra l'altro questo non è neanche un modello base da 300 euro stiamo parlando di un listino da 999 si compra su internet anche 700 750 euro ma ad ogni modo non mi sembra giustificato il fatto della scelta di buttare qua dentro la regolazione del freezer oltretutto ragazzi qua adesso non c'è niente ma il giorno che io stiverò qua un po' di mangiare se volessi poi effettivamente andare a cambiare la mia temperatura dovrei spostare tutto il mangiare da davanti alla rotella già che siamo a freezer aperto adesso si incavolerà tantissimo vi faccio vedere quello che è lo sportello di creazione per i ghiacciolini sportello che si riempie lì si gira la rotella e comodamente cascano i miei ghiaccioli sì peccato che questo ok lo possiamo spostare da destra a sinistra ma guardate qui arriva a battuta e ci sono ben tre dita che di fatto portano via tutto questo spazio al carico del mio freezer quindi ragazzi sì simpatica l'idea che io questo me lo sposto dove voglio ma LG la prossima volta studiati un meccanismo che faccia sì che questo cassettone possa andare a battuta da un lato e dall'altro chiudo il freezer perché non ho null'altro da obiettare qui ci sono due scomparti dove io vi consiglio di prendere questo misto soffritto che fa sempre bene in cucina ad ogni modo luce led per risparmio energetico freezer abbastanza capiente lo chiudiamo se no veramente si incavola davanti il nostro LG e adesso andiamo ad analizzare le altre cose che non mi sono piaciute all'interno del frigo ok ragazzi ecco qui anche qui ho caricato poca roba intanto andiamo subito a toccare i materiali e vi dico che secondo me sono un po' sottotono rispetto al costo del frigorifero come vedete la parte superiore è illuminata abbastanza da questa luce led ma man mano che si scende soprattutto nella parte inferiore e quella delle verdure e delle frutte vedete è molto molto più buio avrei gradito una seconda luce magari a metà tragitto sul nostro frigorifero il frigorifero come vi dicevo è molto basso è come me ma ragazzi qua per andare ad alloggiare la roba qui in fondo ci si spezza veramente la schiena siamo a un palmo da terra siamo veramente bassi 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 io avrei fatto il frigo leggermente più alto magari con dei piodini uno zoccolino più alto ma avrei fatto sì che l'ultimo scomparto non fosse così in basso oltretutto ragazzi non c'è neanche la possibilità magari di scegliere una posizione intermedia alzare un po' tutto perché questi ripiani sono in questa posizione e in questa posizione e configurazione ci devono restare assurdo anche da sta parte che vedete è stato pensato uno spazio molto alto non ci sia un'intramezza per magari spostare e configurare diversamente il layout dei miei cassetti l'ultima critica ragazzi poi parliamo un attimo dei pregi riguarda il cassettone della verdura e della frutta io avrei preferito come avevo nel mio vecchio frigo un cassettone diviso in due per sembrare magari gli odori di una cipolla per chi come me le mette in frigo da un'insalatina fresca questa non è fresca o da della frutta che potevo mettere qua dentro ebbene ragazzi sto massacrando questo LG in realtà no ripeto non è un frigo assolutamente da buttare via è un frigo che funziona molto bene il fresco è fresco il no frost sembra funzionare molto bene e adesso vi faccio vedere una chicca invece che si sono pensati in casa LG apriamo di nuovo il nostro frigo ed ecco qua quello che è questa door cooling più sono due bocchette di aria che magari sulla prima vi chiederete a cosa servono ebbene non so se avete mai letto queste statistiche che dicono che i prodotti nella portella del frigo sono sempre quelli che si deteriorano di più tipo non mettere il latte assolutamente nella portella perché a ogni apertura di fatto questa zona è quella che resta poi sempre più calda nel frigo ebbene queste due bocchette sono nate e pensate proprio per questo fanno creano un flusso d'aria circolare che va proprio a sbattere contro la nostra portella rinfrescare tutti questi ripiani che normalmente dopo un'apertura rimangono più caldi vi avevo detto un po' di chicche in realtà questa è l'unica chicca che ho scoperto di questo frigo il resto è una cosa abbastanza comune tipo l'immancabile ormai zona a zero gradi per i freschi potrete mettere del pesce e della carne un po' più sensibile alle temperature le mettete qua e durano sicuramente di più che lasciandoli all'interno del frigo ebbene prima di salutarvi voglio far vedere anche un piccolo accenno a quella che è l'applicazione sul cellulare ebbene sì guardate qua quanti lg ho sopra io vado su frigorifero e qua un'altra piccola piccolissima delusione ebbene le funzioni e le informazioni del freezer del frigo sono veramente scarne ridotte all'osso possiamo vedete cambiare la temperatura del frigo 3-4 gradi eccetera non possiamo farlo del freezer perché stranamente è meccanica qui ci dice che è in esecuzione va bene vi ringrazio però possiamo andare effettivamente a fare l'express freeze che di fatto è un raffreddamento ultra rapido del vano freezer qualora portaste la roba magari mezza scongelata comunque voleste creare del ghiaccio più in fretta ecco lì che lo potrete effettivamente fare anche dall'applicazione all'esterno da fuori casa tra le funzioni utili di fatto c'è solo la diagnostica molto interessante per carità ad ogni modo l'andate a cliccare gli dite inizia e lui fa un test di tutte le componentistiche del frigo e vi dice se sono effettivamente tutte ok ebbene ragazzi siamo giunti davvero alla conclusione non ho veramente null'altro da dirvi beh che dire ve lo consiglio o non ve lo consiglio questo frigo intanto bisogna vedere alla lunga come andrà quanto durerà ed effettivamente se le temperature tutto il sistema della reazione eccetera faranno a lungo termine quello che stanno facendo adesso e quello che promettono il frigo come vi dicevo funziona bene però ci sono queste piccole cose che avrebbero potuto fare diversamente che mi resta un po' sul gozzo anche perché come lo sapete ormai già io sono un amante un sostentore della LG e mi dispiace sono però anche sincero mi dispiace davvero dover fare queste piccole critiche se ad ogni modo reputate una cagata tutto ciò che ho detto perché non è detto che quello che dà fastidio a me dia fastidio anche a voi potete quindi andare a scegliere questo frigo vi lascio giù il link in descrizione per comprarlo su Amazon io l'ho comprato lì sono venuti due montatori col prezzo aggiuntivo di 15 euro hanno fatto un servizio assolutamente molto valido gentilissimi in casa si sono mossi con molta discrezione sono stati attenti hanno montato e portato via quello vecchio quindi è consigliato il servizio se vi interessa andate giù in descrizione beh che dire ragazzi per questo video è tutto se vi è piaciuto ovviamente lasciate un like giù nei commenti se reputate di dirmi qualcosa o chiedermelo noi ci vediamo alla prossima qui è Megaticker e ciao ciao Grazie a tutti.